siamo in streaming potete iniziare buonasera a tutti benvenuti iniziamo oggi un nuovo ciclo di eventi la presentazione del libro ama dalla sede di benevento quindi questo un incontro che è organizzato dall'università del sangue ma fa parte delle attività del centro di antropologia del mondo antico oggi abbiamo il piacere di presentare il volume di maurizio bettini roma città della parola edito dai naudi quest'anno i relatori sono tutti insigne studiosi non hanno bisogno di presentazioni ma lo farò lo stesso e sono eva cantarella antichista di fama internazionale luigi garofalo e massimo miglietta due romanisti eminenti e giuristi assai noti nel mondo accademico e non solo il libro di cui parliamo oggi è un libro un po speciale un po speciale per noi romanisti perché finalmente c'è una grande parte dedicata al diritto non che voglio dire non ce ne siano altri che dedicano delle parti al diritto ma forse non in una maniera così inedita e così approfondita è un saggio complesso di ben oltre 400 pagine e l'autore ci conduce nella proprio nella struttura mentale dei romani attraverso il filtro dell'oralità mostrandoci come vive il romano antico e come doveva essere il suo mondo pieno di parole risonanti pieno di voci pieno di suoni pieno di alletterazioni e ci fa vedere un aspetto inedito di queste parole così diverse perché cariche di significato in qualche modo parole pesanti che usavano i romani e che li accomunano in qualche modo ai poeti quindi poeti e giuristi amavano più la parola orale che la parola scritta ma io cedo subito la parola al primo relatore alla professoressa eva cantarella che ringrazio moltissimo per essere qui con noi oggi pomeriggio grazie grazie a voi e grazie graia grazie a voi grazie a tutti voi per me è inutile dirlo è non solo un piacere una gioia veramente essere qui a poter parlare con voi di questo libro bellissimo non mi sorprende un libro di maurizio bettini sono tutti bellissimi questo però è un libro veramente molto particolare è veramente originale perché come dice il titolo stesso lo dice roma città della parola è un la cosa su roma è stato scritto di tutto e da tutti ma nessuno avrebbe mai pensato a un libro che potessi chiamarsi roma città della parola direi che solo maurizio bettini lo poteva fare no poteva farlo solo lui per tante ragioni ma prescindiamo dal fatto che lo conosciamo tutti mi dicono che ci sono gli studenti anche gli studenti lo conoscono insomma per ricordarlo agli studenti che maurizio bettini è un protagonista a livello internazionale di dibattiti culturali che non si svolgono solo fra antichisti classicisti no ma fra tutti quelli di tutti che studiano il mondo antico da tutti i punti di vista con tra l'altro con tra l'altro delle escursioni che maurizio bettini face a volte dal molto interessanti dal anche dal passato al presente ma ne vengono in mente proprio adesso mentre sto parlando per esempio due due interventi che ho apprezzato molto recentemente uno per esempio era contro l'identità ecco mi viene in mente questo contro l'identità partendo dall'antichità tocca problemi presenti magari molto brevemente leggermente come in questo caso ma sempre importantissimi ma voglio dire perché maurizio bettini oltre per questi meriti solo lui poteva scrivere questo libro perché maurizio bettini è quello che nell'86 ha creato in italia ha introdotto in italia l'antropologia del mondo antico cosa che allora era praticamente sconosciuta e che tuttora diciamo certo praticata ma insomma non non quanto meriterebbe forse anzi senz'altro allora e questo libro perché originale perché maurizio bettini vede roma da un punto di vista come antropologo del mondo antico con tutte le sue particolari competenze vede roma rosso di roma è stato tutti hanno scritto su roma da tutti i punti di vista nessuno ha pensato di fare come l'ha fatto lui come come ha fatto maurizio appunto come antropologo del mondo antico puntando l'attenzione su un fatto un fatto il fatto di partenza qual è che diciamo come tutte le culture tutte le culture tranne roma prima di arrivare alla fase della cultura scritta la scrittura la trasmissione della cultura attraverso la scrittura attraversano un periodo più o meno lungo di cultura orale bene tutto questo non accade a roma o meglio non accade a roma a roma non ne abbiamo traccia e che tutte lo attraversino è cosa talmente nota che non c'è bisogno neanche di dirlo ma basta pensare all'importo ecco il fatto incredibile è che di roma non abbiamo notizie perché di questa fase questa fase di cultura orale che tutti ripeto hanno avuto abbiamo testimonianze per esempio per la grecia importantissime non ho bisogno di raccontarlo sempre per gli studenti ricordiamo beh i famosi tutti i famosi aedi e rapsodi che loro conoscono benissimo beh non erano semplicemente dei personaggi che giravano per la grecia per divertire gli spettatori non aerei rapsodi non svolgevano solamente una funzione ricreativa avevano una funzione fondamentale qual era era proprio quella di trasmettere la cultura orale attraverso questi spettacoli quindi hanno svolto una questa funzione fondamentale che poi è arrivata a noi naturalmente come tutti ben sappiamo non entriamo nei problemi è arrivata noi grazie ai poemi omerici bene a roma di tutto questo non esiste traccia non esiste cioè a roma non abbiamo testimonianze del non abbiamo testimonianze su questo periodo nel quale è stata a lungo certamente una cultura una cultura orale e anche quando è fondata sulla pratica della scrittura e quindi ci sono degli autori ci sono dei testi che tutti ben conosciamo e beh questo non importa la 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 parola la cultura orale continua avere una sua vita propria che continua a vivere a sopravvivere che la caratterizza tipico di roma esclusivamente proprio particolare di roma ecco e e io vorrei qui mi viene aprire una piccola non aprire una piccola parentesi ma fare una considerazione più che un'altra una domanda che farei a maurizio bettini solo lui poteva scrivere questo libro solo lui l'ha scritto non entro nei particolari perché poi apro una piccolissima parentesi giustamente aglaia ha detto raramente si parla del diritto se ne parla molto ecco io ne parlerò poco perché i due colleghi che parlano sono due giuristi quindi magari io posso divagare su cose un po diverse e una cosa diversa sulla quale vorrei aprire una piccola parentesi è questa che è molto legata a questo libro mi leggendo questo libro venito in mente un altro libro assolutamente fondamentale di maurizio bettini assolutamente fondamentale che è se non sbaglio del 2008 che si chiamava voci voci antropologia sonora del mondo antico se non sbaglio era un libro di inaudi ed era ed era ed è un libro assolutamente bellissimo allora che cosa ha fatto in questo in questo straordinario libro lui riesce a ricostruire questa volta non parla della parola ma parla dei suoni i suoni è dedicato ai suoni è un libro nel quale lui ricostruisce la fonosfera dell'antichità perché ovviamente i rumori che sentivano gli antichi non sono gli stessi rumori che sentiamo noi noi non loro non sentivano sferagliare i tram ma sentivano altre cose e maurizio e tra le tante cose che sentivano ci sono le voci le voci le voci degli animali beh questo è un libro assolutamente incredibile lui ricostruisce i suoni prodotti da tutti quegli animali ma dove come dove cerco ovviamente le cercare le parole perché sono nei testi no quindi attraverso i testi ricostruisce le voci di allora allora non so e attraverso le voci poi che so io me ne vengono in mente qualcuno il mugire della pecora in nere dei cavalli ricostruisce appunto questi suoni che è come un insieme ecco un libro che ci regala come tante voci che sono tante lingue che non sono però lingue umane ma sono lingue degli animali mi piacerebbe parlare ancora ancora di questo libro perché mi è venuto in mente in quest'occasione rileggendo per non è non è la prima volta secondo me la seconda quello sia la terza volta che rileggo il libro di maurizio mi è venuto in mente voci lo voglio andare a rileggere perché un libro altrettanto importante però ecco volevo fare una domanda questo proposito a maurizio a me piacerebbe lui tra l'altro da questo ricostruisce tutta una torna sulle poesie attraverso tutto questo e vede come tutti questi suoni queste queste voci e poi si traducono in in poesie sulle quali si sofferma un libro veramente bellissimo la domanda è questa c'è una certamente c'è una continuità in questo ma mi domandavo vi domandavo se è un'idea che quella per esempio di dedicarsi alla parola a roma è cominciata a nascere mentre lavorava o se se c'è una continuità e che rapporto c'è tra queste queste due questi due questi due libri bellissimi e poi siccome non voglio parlare troppo perché sto già parlando abbastanza vorrei dire una parola almeno sul mondo greco perché qui mi è venuto perché sempre leggendo il libro di bettini questo non parlo più di voci ma adesso sto parlando appunto di questo su roma mi è venuta mi è venuto un dubbio mi è venuta una curiosità cioè è vero il mondo nel mondo greco abbiamo le testimonianze reale attraverso eccetera e poi e poi c'è il mondo la grecia della parola bene della grecia la grecia appunto la parola scritta la parola scritta però la parola parlata forse continua avere anche nella grecia nella grecia appunto classica parliamo quinto secolo anche quarto io penso anche al quarto un valore maggiore di quello che non si usa a pensare e io addirittura mi è venuta persino in mente che potesse avere un valore magico e dico subito perché mi è venuta questa stravagante idea qui c'è maffi speriamo che non inorridisca l'idea quello che sto dicendo ma la parresia che cos'è la parresia la parresia lo sappiamo tutti la parresia è il diritto di parola il diritto di parola che però ecco forse non è solamente un diritto quantomeno in alcune occasioni è anche un dovere e perché facciamo l'esempio dico quinto quarto ho detto quinto quarto secolo perché penso alla loro tra le orazioni giudiziarie la fonte fondamentale è questa e voi sapete che in grecia non esistevano gli avvocati naturalmente non tutti erano in grado di difendersi da soli e quindi che cosa facevano non potendo assumere non era consentito non esisteva la categoria degli avvocati però esistevano i logografi giudiziari che erano quelli che non erano avvocati di mestiere ma scrivevano erano dei retteri scrivevano le orazioni per i loro clienti in genere erano ometteci potevano diventare anche molto ricchi come Iseo ma socialmente squalificati la cosa interessante è questa è che nel momento in cui non solo scrivevano scrivevano il testo scrivevano l'intera orazione di accusa e di difesa per il loro cliente ma chi la doveva leggere la doveva leggere la parresia voleva non solo il diritto ma il dovere di fare sentire la propria voce e allora abbiamo questa cosa abbastanza strana sono questi che cominciano a parlare dicono io sono un povero contadino dell'attica non so questo e poi segue de mostrene che fa un discorso bellissimo ecco questo era per dire che forse il libro tra le tante cose questo libro di maurizio mi ha fatto pensare anche alla possibilità e cercherò magari di pensarci più seriamente e magari mi ci dedicherò un po perché mi è un argomento che potrebbe essere interessante e anche collegabile a quello di roma sulla possibilità che anche nel mondo greco senza arrivare naturalmente senza poter paragonare grecia roma esistesse però tuttavia la la parola parlata ecco se la possibilità abbia mantenuto il suo ruolo anche attraverso i secoli anche nel quando ormai la parola parlata era completamente scomparsa io direi che a questo punto ho chiacchierato abbastanza e avevo fatto questo vai un paio questo queste domande a maurizio per tutte e due 16 cosa pensa di questa strana idea che mi è venuta sulla parola magica quasi in età greca e poi rapporto qualche cosa su voci se possibile grazie grazie era maurizio va bene se continuiamo con gli interventi tutti di seguito e rispondi alla fine o preferisci rispondere man mano come come vuole l'organizzatrice per me direi di andare tutti di seguito così poi puoi fare un discorso unitario poi così magari abbiamo anche il tempo perché ci sono anzi ringrazio moltissimi che si sono collegati ancora tanti altri colleghi chiudete scrivete i microfoni per favore così in modo che magari se qualcuno ha voglia di fare un intervento può farlo allora ci diamo subito la parola al professore luigi garofalo dell'università di padova grazie grazie a tutti ma grazie soprattutto a maurizio per questo libro eva l'ha definito bellissimo io mi associo ma no non è un ma in contrapposizione dico spenderò qualche parola dal punto di vista veramente del giurista puro non so se appartengo a giusto titolo a questa categoria ma se a uno appartengo sia una appartengo è solo questa non ti nascondo che quando i giuristi leggono libri sul diritto romano di non giuristi sono la prima cosa che fanno è la verifica degli errori dal punto di vista documentico io non ho fatto eccezione perché leggendolo attratto moltissimo ho detto ma ci sarà un punto in cui non 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 sarà in linea con tutto quello che presso i giuristi si dice beh non l'ho trovato eppure ho guardato con particolare attenzione aggiungo che quando i giuristi guardano a chi parla di diritto romano non essendo di estrazione prima un giurista al massimo arrivano a dire che è tutto in ordine dal punto di vista del diritto stesso ma raramente credo abbiano detto che invece abbiano imparato qualcosa dal libro e invece io dico che qui il giurista impara molto impara molto nel rispetto anche di una dogmatica tradizionale ma con forti elementi innovativi tipico della giurista che si accosta anche le fonti romane e trovare parallelismi individuari associazioni tra istituti per creare categorie e tu dai uno spunto chi mai all'interno dei giuristi ha associato stipulazio provocazio ad populum inius vocazio istituti così diversi che appartengono a branche del diritto per creare una categoria sia pur quella dell'oralità e quindi questa è anche un inoculare qualche cosa di nuovo in una dogmatica tradizionale che proprio aspettava questo raramente si trova in chi non è un giurista una anzi se volete lo metto in positivo per lo più si trova una semplificazione dei ragionamenti del giurista qui invece io trovo esattamente l'opposto maurizio complica e non poco e molto felicemente anche all'interno del diritto romano poi ne farò un esempio concreto in relazione al fasle sono cinque capitoli che veramente mi hanno molto colpito così simpaticamente si potrebbe dire che se il diritto romano ha corso il pericolo eva lo ricorderà bene perché risale a un congresso della società di storia di qualche più di qualche anno fa poi in cui si discuteva da parte degli storici se il diritto romano non dovesse essere un capitolo della più generale storia romana e i giuristi erano in sorte dicendo ma no insomma ci sono delle peculiarità che voi non cogliete adesso corriamo il rischio che sia un antropologo che invece queste peculiarità le riconosce ad assorbirci nella sua categoria anche euristica però maurizio qui combatterò io una battaglia per mantenere anche la nostra autoria perzosamente proprio facendo leva sulla bontà della tua analisi io veramente sono rimasto a tutte le pagine dedicate al diritto e nonna in modo particolare dai ben cinque capitoli che tu riservi al fas era già molto interessante quel saggio intitolato proprio fas che era apparso in giuristi nati un libro ancora di ama che aveva curato nel 2016 a glia mcclintock ma qui abbiamo uno sviluppo di quelle idee veramente fecondo cercherò di mettere in luce per grandissime linee qual è la tua idea e poi anche di trovare un'applicazione concreta in una delle poche fonti che tu non svisceri in modo organico perché perché lì si ha una tangibile prova della bontà della tua ricostruzione e in tutti i libri di diritto romano che farsi in qualche modo riconduce a un diritto divino diciamo che molti la coppia è fas e ius molti l'associano la coppia ius divino ius umanum ma al di là di questo parallelo che viene tracciato ancora non mi pare che i romanisti finora fossero andati oltre quel confine rappresentato dal collegamento del fas a una espressione a una esperienza a una dimensione normativa che ha a che fare con il divino e poi hanno variamente declinato in tutto la posizione più avanzata mi sembra di quelli eh mi viene in mente Roberto Fiori ma ma mi viene in mente anche quel che ho scritto io che dicono sì anche si attiene a una dimensione di rapporto uomo dio le fonti del fas sono comunque eh fonti umane eh sono i giuristi che trovano il diritto sono le consuetudini che si formano eh e che dettano anche regole giuristi consuetudine e natura come fonte normativa in materia di rapporto uomo dio ma oltre questo confine non si era andato eh tu tu superi tutto questo a proposito delle innovazioni che molto insegnano perché guardando all'uso di fas in fonti molteplici alcune delle quali eh scorrettamente inadeguatamente non messe a profitto dai romanisti e mettono in forte discussione questo unico collegamento con il mondo divino ancorché vengano riconosciute le fonti in capo agli uomini e la il punto di di arrivo è impossibile qui tracciare i segmenti del riproporre i segmenti del ragionamento il punto di arrivo è straordinario di us e fas termine non a caso indeclinabile che designa qualcosa che non è assolutamente negoziabile tu dici un principio assoluto che non ammette deroghe eh e che si esprime attraverso una parola parlata no la radice si 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 commette a farla di là in europeo e che non merita non richiede nemmeno la specificazione dell'interlocutore perché non conta l'autorevolezza l'autorità di chi parla ma conta la vis che ha interna questo principio per cui nessuno può metterlo in discussione è straordinario che l'applicazione che io ti propongo non perché il caso sia straordinario ma perché straordinario rispetto agli studi che io avevo condotto per tanti anni su un testo che i romanisti conoscono bene quello testo che a proposito dell'uomo sacer dice neque fas l'uomo sacer eum immolari ma colui che l'uccide non venga poi accusato di omicidio graia conosce bene quanto è questo questo testo neque fas eum immolari no quindi si è sempre detto anche da parte mia che sul piano dei rapporti uomo dio esistono delle regole e queste regole non permettono che l'uomo sacer venga ucciso attraverso la sua immolazione rituale attraverso un sacrificio immolari sta per essere immolato e sta per quindi essere ritualmente sacrificato chi vuole gli dia la morte e poi io cercavo anche di spiegarlo dicendo ma insomma se l'uomo sacer appartiene per il fatto stesso che ha comunque ha compiuto un certo atto appartiene ipso iure alla divinità è chiaro che non può essere sacrificato perché già appartiene la divinità il sacrificio allo scopo di passare in proprietà alla divinità le sanctis lo sa bene ed è collegato con noi e lo saluto e questa è la spiegazione ma non serve perché una è una spiegazione a una ricostruzione barocca alla luce di quello che tu dici in realtà neque fas eum immolari esprime una principio inderogabile e qui tocco una corda tua bellissima perché sarebbe contraddittorio sul piano logico ammettere il sacrificio in presenza di un uomo che è già di dio qui non serve passare attraverso la ricostruzione della dimensione della dimensione uomo dio quel fas quel neque fas e esprime quindi un'applicazione concreta che io trovo veramente probante in modo straordinario esprime proprio un principio che ha in sé una legge di natura una legge che è ispirata il principio aristotelico di identità di non contraddizioni un principio inderogabile sotto il profilo logico un principio che poi noi invece passando attraverso strade più tortuose abbiamo dovuto ricollegare a una regola attinenti ai rapporti tra l'uomo e dio bravo Maurizio perché ci insegni strade più dirette per ricercare quello che in fin dei conti è sempre il punto di arrivo di una ricerca giuridica non non l'analisi della regola in sé per sé anche se tanti giuristi si fermano a questo ma la scoperta della razio di ciò che sta sotto a una regola che nasca grazie grazie davvero grazie infinite al professore garofalo sì questo concordo che uno dei punti più belli del volume è proprio questa contrapposizione tra fas e ius in cui si capiscono tutti nuovi diversi sensi in cui fas è indeclinabile in qualche modo lo zoccolo duro intangibile che non per questo è divino è semplicemente intangibile mentre ius si mette sempre in relazione ius è in grado di andare dietro come la con queste parole con le parole autorevoli alle esigenze di una comunità che muta e questa era una riflessione che condivido in pieno ed ora diamo la parola al nostro ultimo presentatore di oggi il professore massimo miglietta dell'università di trento grazie a glia spero mi sentiate bene anch'io ovviamente desidero esprimere la mia grande ammirazione per questo per questo libro per quest'opera perché soprattutto ha provocato e non credo soltanto soltanto in me la sensazione di poter chiarire intuizioni pensieri dubbi che un po si celavano nel profondo e di farli emergere un pochino dalla sonnolenza della mente per cui magari emergono no questi interrogativi e poi uno li lascia sedimentare senza interrogarsi a volte più di tanto almeno questo per quanto riguarda la mia esperienza anch'io sono stato colpito molto dai capitoli relativi al fas e quindi cercherò poi di ridurre al minimo le osservazioni che avevo un poco meditato se vogliamo questo questo spero breve intervento si potrebbe intitolare verbum diritto magia e religione un distinto orientamento e puntini puntini l'ironia mi spiego subito perché inizierei stranamente per un docente di diritto romano ma forse neanche troppo stranamente con un proverbio e terminerò con una barzelletta non è solo per interessare gli studenti ovviamente né per fare diciamo l'originale questa impostazione che forse potrebbe sorprenderci un poco ma desidero precisare sia l'uno cioè il proverbio sia l'altra barzelletta contrariamente appunto a quanto si potrebbe anche legittimamente pensare sono in realtà cose serie come tutte le parole da un seconda di come le si guardi il primo è un adagio inglese credo anche abbastanza noto gli inglesi sono sempre seri anche quando scherzano questo è un po il segreto del humor ed è il seguente chi usa cinque parole per esprimere un concetto che può essere detto con tre è capace del più abominevole dei delitti questo è uno dei famosi adagio inglesi intanto notiamo che noi mediterranei saremmo probabilmente tutti destinati alla forca intanto colpa della nostra lingua perché la lingua le lingue mediterranee e in particolare quella italiana è accertata all'incirca sui due milioni di unità poi l'italiano medio conosce 200 300 parole ma il patrimonio è di all'incirca due milioni di unità differenza è quello inglese calcolato invece ad oxford in un milione duecento e settantamila circa espressioni e poi un po colpa del nostro desiderio della nostra tradizione comunicare con molte parole anche concetti semplici ma questo io credo al di là della battuta che ci consenta di recuperare il senso e il valore della parola in un mondo in cui se ne sprecano tantissime pensiamo al giornalismo corrente o a certa politica in cui si stravolgono nel loro autentico significato una guerra può essere chiamato un'operazione militare speciale e gli esempi potrebbero essere numerosissimi a costo quindi noi mediterranei di diventare delinquenti o quantomeno buoni ladroni almeno secondo questo proverbio inglese quindi usare tante parole e vengo quindi all'idea con cui aprivo cioè questo concetto di verbum di per sé sembrerebbe non avere immediata attinenza con il diritto e con quello romano in particolare anche se il rapporto non può essere escluso almeno da costantino in poi storicamente o meglio ancora con l'instaurazione del cosiddetto diritto romano cristiano e mi spiego subito mi ha sempre colpito e non ne ho mai riuscito a darmene una vera spiegazione ammesso di essere riuscito adesso il fatto che san gerolamo nel tradurre in lingua latina la bibbia in particolare il vangelo di giovanni abbia ritenuto di poter rendere quell'incipit particolarmente intenso e ricco di significati del 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 suo vangelo e nachiano e no logos no in print che gerolamo traduce con verbum no in principio erat verbo impoverito più ancora poi nelle versioni moderne in principio era la parola è proprio diciamo ha distrutto sembrerebbe aver distrutto il senso originario certamente in latino non esiste un termine tanto disperante quanto logos greco lo fermano tutti i linguisti lo fermava già per esempio carlo maria martini commentando il quarto vangelo però sempre pensato che il povero san gerolamo avrebbe potuto sforzarsi un poco di più di trovare una parola appunto migliore semplicemente più significativa ad esempio razio è un principio erat però debbo debbo al volume quindi professor bettini essere tornato su questa mia sensazione originariamente piuttosto critica e negativa per rivederla alla luce delle sue osservazioni e all'importanza della parola appunto nel mondo antico così come in quello romano ovviamente in particolare anche poi nei suoi rapporti con la scrittura o meglio con la traduzione della parola in una forma scritta considerando che la parola soprattutto per gli antichi aveva un valore come ha detto aglaia pesante cioè un valore performante valore sacramentale della parola antica come 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 parola vera era creatrice della realtà quando si dice che un segno vero produce ciò che manifesta e che noi appunto abbiamo un poco perduto ecco perché avevo iniziato con quel con quel proverbio inglese peraltro nel prologo non per niente prologos di giovanni si allude dunque evidentemente alla parola creatrice e quindi assume pur impoverendo il concetto di logos assume un significato molto più come ha detto aglaia pesante e questa parola creatrice e qui vado rapidissimo mi fa tornare per un attimo al libro dell'esodo no nel momento della creazione del mondo se noi andiamo a vedere per sei giorni dio dice e si crea si produce ciò che è detto nel settimo giorno bene dice ciò che è stato fatto la creazione avviene in virtù della sola parola anche la creazione dell'uomo dell'uomo e della donna se andiamo un poco oltre nel rapporto di dio con mosè così come in genere con gli altri patriarchi i profeti è sempre un rapporto dominato dall'espressione dio disse quando dio affida mosè la legge non scrive nulla dice il signore pronunciò queste parole io sono il signore dio tuo mosè andò a riferire al popolo le parole che il signore aveva detto il signore disse a mosè sali sul monte fermati io ti darò le tavole di pietra e qui c'è un parallelismo con altre tavole che vedremo la legge i precetti che ho scritto qui in un'unica occasione ripetuta dio sembra dire che scriverà queste queste leggi e invece la conclusione della vicenda del decalogo è la seguente esodo 34 27 28 il signore di san mosè scrivi questa parola con le quali ho contratto alleanza con te e coi figli di israele mosè rimase lassù col signore 40 giorni 40 notti senza mangiare e senza bere e scrisse sulle tavole le dieci parole dell'alleanza quindi la trasformazione in veste in forma scritta è dell'uomo non di dio quindi questa importanza di questa vera e propria parola creatrice e devo dire che su questo profilo davvero è emerso un un'illuminazione che degli elementi sui quali non avevo mai avuto occasione di di fermarmi per approfondire questo questo concetto forse forse intuitivo forse ci sarei dovuto arrivare prima ma mi sembrava mi sembrava importante sottolineare questi questi dati e quindi nasce il rapporto tra le parole della legge della e quindi il diritto e le tavole il testo scritto della legge si richiama quindi se vogliamo le la legge delle dodici tavole ammesso e concesso che la legge delle dodici tavole sia mai esistita veramente ci sono anche dubbi su questi profili o meglio che siano esistite le tavole materiali della della legge certamente la legge delle dodici tavole nella cultura romana è assolutamente esistita è stata studiata interpretata trasmessa commentata dai giuristi che ci sia stato un testo scritto questo non possiamo saperlo nella realtà ma la cultura e la tradizione romana ci parlano di questo testo fondamentale e qui sono importanti interessanti le pagine dell'autore soprattutto laddove si rievoca la celebre celeberrima affermazione di dell'arpinate secondo il quale nell'adolescenza potremmo dire noi negli anni degli studi primari le si studiavano come un carmen necessario così notiamo che sia per le tavole della legge mosaiche sia per la legge delle dodici tavole un gioco di parole un chiasmo così come già per le disposizioni dei re antichi romani si avverte il parallelismo della loro formalizzazione per iscritto di regole probabilmente già esistenti quindi dopo la loro nascita nella parola e la loro distruzione loro smarrimento noi abbiamo sempre questa dimensione di ciò che è stato formalizzato in qualche misura poi scompare anche le tavole di mosè vengono distrutte almeno nella prima edizione diciamo così ma le seconde non sono mai state rinvenute e neppure da indiana jones con la favolosa scomparsa dell'altrettanto favolosa arca dell'alleanza si tratta di una continua tensione tra la parola fluttuante e lo scritto stabile potremmo dire tra l'indeterminatezza della regola orale interpretabile quindi modellabile modificabile ad opera di quelli che Bettini definisce in modo assai suggestivo i signori del linguaggio giuridico un'espressione che mi è piaciuta tantissimo perché condensa in sé tutto il significato di quanto sto cercando di dire e la regola scritta è questa continua tensione quindi a certe condizioni a sua volta certa immodificabile a piacere di questo o di quel sacerdote di quel sovrano di quell'interprete cicerone dice si studiavano a memoria i versetti delle dodici tavole come un carmen necessario tanto mi chiedo cicerone forse non dice che erano carmen necessario ma come un carmen necessario e questo questa questa similitudine non so io mi chiedo se non nasconda qualche ulteriore secondo significato di cui cicerone spesso rivestiva le sue espressioni un primo livello è un livello sotterraneo con cui vuole dire qualcosa che in apparenza sembra non esserci un dato comunque questo che mi ha fatto pensare e riflettere che poteva influire sulla struttura stessa della legge delle dodici tavole ci sono diverse ipotesi di organizzazione sistematica cioè del sistema creato da questo pseudo codice ma forse sarebbe necessario soffermarsi con maggiore attenzione su questo dato la struttura doveva essere una struttura che facilitasse la memorizzazione non erano poche le regole da mandare a memoria anzi erano tante soprattutto per un ragazzino ancora una volta però il testo orale la parola memorizzata quella che consente la trasmissione delle norme e delle regole degli antichi norme regole come osservato anche con molta perizia nel volume anche di natura processuale che ha ragione Bettini ritiene fossero lontane da profili magici non che il diritto non possa avere a che fare con la magia o con la religione pensiamo alla legis saczio sacramento in re ma in persona che prima è un vero e proprio giuramento e poi si trasforma in una scommessa di denaro forse per evitare che ogni processo uscisse uno spergiuro e quindi nel giro di un secolo due roma fosse strapiena di spergiuri cioè tutti coloro che perdevano in sede processuale e talora anche con la magia è vero quanto viene detto infatti che plinio quanto plinio afferma a proposito del potere degli incantamenta secondo cui le persone più colte individualmente rifiutano questa credenza mentre la vita presa nel suo complesso vi presta fede ogni momento e non se ne accorde del resto è lo stesso è lo stesso plinio che ci ricorda il caso di un tale gaio furio cresimo un caso avvenuto nel ancora nel secondo secolo dopo cristo si tratta di uno schiavo liberato che da un campo piccolissimo teneva frutti molto più abbondanti rispetto a quelle dei suoi vicini che avevano appezzamenti vastissimi e quindi dice plinio era guardato con grande sospetto come se attirasse nel proprio campo con incantesimi i raccolti altrui qui il chiaro riferimento è alle dodici tavole secondo la tradizione tavola ottava versetto ottavo citato in giudizio per questa ragione da spurio albino e di le curule e temendo la condanna perché c'era da sottoporsi al voto della tribù portò nel foro tutta la sua attrezzatura agricola e condusse la servitù robusta e ben tenuta e ben vestita strumenti di ferro di buona fattura pesanti zappe vomeri ponderosi buoi ben nutriti e poi disse i miei malefici acqueriti sono questi e non posso mostrarvi o portare nel foro le mie notti di lavoro le veglie e di sudore egli fu assolto all'unanimità ancora una volta qui è la parola che potremmo definire convincente che supera per così dire il testo scritto della legge l'atto dell'allieno sfruttus e cantare ovvero di chi cercasse di attrarre quegli stessi raccolti verso il proprio fondo per mezzo di incantesimi telecinetici viene respinto attraverso la parola del dell'imputato un'ultima osservazione perché vedo che ho già preso tantissimo tempo e quindi taglio molto radicalmente appunto come dicevamo la definizione di fassi e ha senz'altro ragione e Bettine a criticare l'interpretazione tradizionale cristiana e isidoriana in particolare che poi ha influenzato tutta la letteratura posteriore siamo infatti abituati anche a lezione per comodità parlare ai nostri studenti di us e fas come diritto umano positivo e diritto divino positivo incorrendo in questa mister stennis non sarei invece così certo che in roma non si credesse anche che gli dei potessero essere soggetti a qualche regola giuridica e forse la nostra visione tomistica un po da anselmo di canterbury deus est id quomaius cogitar in equit che ci fa ritenere che le divinità non potessero essere soggette anche al diritto in particolare per roma che io sempre ritenuto essere caratterizzata da un solido dna giuridico tutto è soggetto al mondo delle regole oltre che alla spada e non stupisce che anche giove o apollo o altri potessero subire qualche limite di natura giuridica erano talmente umani nelle loro manifestazioni che forse anche il diritto in qualche latta misura li coinvolgerà e certo però che non sia in presenza di un ordinamento distinto così come è stato presentato vi sono regole che esprimono profili legati alla religione altri che si riflettono esclusivamente nel mondo degli uomini con una serietà talora che poche altre discipline conoscono forse soltanto la medicina possiede un vocabolario altrettanto inquietante come il diritto e invece niente come la parola può essere veicolo di colori sfumati o violenti o mezze tinte lo scritto non è portato all'ambiguità o almeno tanto quanto la parola lo scritto stranamente usiamo anche il termine la parola scritta a differenza della parola parlata non ha sguardo non ha sottintesi non ha ammicamenti e così via la ricchezza della parola ben vedere non è ripetibile in altra forma ed è in qualche misura veicolo di libertà contro la blindatura dello scritto la forma scritta degli accordi nasce quando il cittadino non è più in grado di potersi fidare della parola altrui o quando vuole avere certezza di ciò che è stato stabilito la libertà di parola quindi quale riconosciuto diritto fondamentale diceva prima la professoressa cantarella non si dice si dice libertà di parola non si dice genericamente libertà di scrittura ea riprova della duttilità allusività ambiguità della parola che ne fa tutta la sua ricchezza sia oggi sia nel mondo romano e credo in ogni epoca chiudo come promesso con questa barzelletta ebraica columbia university il linguista smith tiene una conferenza sul linguaggio in cui spiega che molte lingue usano la doppia negazione per esprimere un'affermazione non è diverso da sua sorella dice ad esempio ma prosegue non esiste alcuna lingua al mondo in cui valga l'opposto in nessuna lingua l'uso della doppia affermazione serve per esprimere una negazione a questo punto il filosofo brown che è seduto in fondo all'aulomania dice chiaramente si si grazie grazie mille di questo brillantissimo intervento grazie tutti e tre bellissimi interventi e grazie al professore miglietta per aver messo in luce anche tutto il problema della performance della parola e anche del dell'unicità in qualche modo delle parole romane e latine immobili e e forse quando tu dici perché erano tanto umani forse perché erano talmente giuristi e io direi a questo punto di dare la parola all'autore di questo all'unanimità bellissimo studio roma città della parola maurizio bettini grazie grazie claia grazie a tutti io ho ricevuto molti complimenti sono confuso soprattutto dal a quello che mi ricordi carofalo cioè che non ha trovato errori nel mio nella parte giuridica del mio libro questo ovviamente enormemente mi rassicura anche se non gli credo questo mi pare ovvio che impossibile devo aver fatto per forza degli errori ma evidentemente luigi talmente generoso che che non non li ha trovati e non li ha voluti trovare devo dire però che se c'è una correttezza giuridica in quello che ho fatto si deve da un lato a all'essere stato io adottato già da qualche anno da una comunità di giuristi quindi qualche cosa ho imparato sono entrate dentro delle cose e poi dal fatto che a graia si è anche prestata a rileggere con grande attenzione quanto avevo scritto quindi per lei in questo senso devo molto quello che osserva eva è molto interessante cioè il fatto che c'è un rapporto tra il mio libro di qualche anno fa voci e questo in effetti io questo libro l'ho concepito alcuni anni fa ma l'ultimo capitolo quello sui suoni sulla sulle sonorità della poesia latina arcaica e quindi anche sulle sonorità di tutte le forme di produzione latine arcaiche anche le leggi delle dodici tavole per quel che restano anche le profezie anche gli adagia eccetera eccetera e ecco questo ce l'avevo dentro da molti anni non dico quanti perché mi vergogno ma da tantissimi anni perché sono sempre stato sensibile ai suoni questo è vero e quindi se sono passato da voci a questo libro è stato proprio con il medium delle sonorità che si riscontrano soprattutto nella produzione latina arcaica da qui poi io mi sono detto ma allora questa parola deve essere veramente importante se la curano così se scrivono diciamo se compongono in questo modo e poi scrivono anche in questo modo come plauto come ennio come altri e quindi c'è eva accolto un punto importante per me una continuità così come accolto un punto importante quando dice che anche la grecia per tanti aspetti funziona così ma certo prima di tutto per un motivo come dire strutturale nel fatto che in una cultura in cui si scrive ma non ci sono i mezzi di produzione della scrittura che si avranno dopo la stampa per non parlare del digitale in cui viviamo ma in cui il materiale scrittorio è comunque un materiale faticoso perché sono tavolette da incidere possono papiri da svolgere da preparare o peggio ancora sono pietre da incidere è ovvio che la scrittura fa più fatica ad affermarsi e che meno comoda e poi e poi bisogna considerare che la parola esistendo si autoalimenta cioè io credo che noi non riusciamo più a comprendere renderci conto veramente di cosa sia la parola in un mondo che o è completamente orale o è parzialmente orale come roma e come anche la grecia come diceva giustamente cioè la quantità di sfumature l'importanza delle intonazioni dei dei reciproci modi di parlarsi dei modi di qualificare la propria identità o il proprio rango sociale attraverso un modo di parlare cioè queste sono tutte cose che noi abbiamo perduto abbiamo perduto perché da secoli ormai scriviamo ma se proviamo diciamo con la fantasia a rimetterci in un mondo in cui la parola è così importante di colpo non possiamo che ipotizzare uno spettro enorme di variabilità di questa parola che deve essere una parola estremamente ricca estremamente per qui per noi sarebbe affascinante ma ripeto non credo che riusciamo a percepirla più se uno ascolta un giornalista o una giornalista del telegiornale ha questa impressione almeno io ce l'ho di una spaventosa piattezza c'è tutto espresso nello stesso modo ecco questo io credo che sarebbe stato impensabile nel foro romano nella gara di atene luigi e garofalo io a volte a ringraziarlo perché appunto mi ha ufficialmente adottato oggi nel mondo dei giuristi ritenendomi immune da errore che mi sono stato con qualche modo lavata da un peccato originale che non essere giurista sono stato lavato bene battezzato sono sono felice di questo perché per me è stata da qualche anno a questa parte ormai da parecchi anni a questa parte la scoperta del dico senza vergogna senza pudore la scoperta del diritto romano è stata una cosa assolutamente appassionante c'è una lunga tradizione di filologi soprattutto ma anche di storici di totale ignoranza del diritto romano e io ero forse meno colpevole di altri perché mi sono spesso interessato ai programmi parentela ho anche scritto un libro sulla parentela nel mondo antico a roma in particolare quindi qualche modo il diritto l'avevo sfiorato però normalmente noi altri noi non ci occupiamo di diritto il diritto sta da un'altra parte il che è assurdo sia perché i romani al contrario vivevano dentro immersi respiravano il diritto sia perché è la più grande creazione della cultura romana noi altri ingenui pensiamo che siano non so e neide di virgilio se è vero lo è assolutamente alle satire di orazio assolutamente ma il diritto romano ha avuto un'influenza enorme sulla nostra struttura mentale sulla nostra cultura quindi è è quasi incomprensibile ora per me come ci possa essere questa separazione me ne sono accorto un po tardi voi direte vabbè però è anche bello la vita a scoprire cose nuove e a proposito di fasce vedo che fasce ha interessato i miei lettori e mi ha fatto molto piacere che un capitolo a cui ho lavorato tanto devo dire luigi ha anche ricordato che c'era stata una prima versione di questo fasce in cui sostenevo sostanzialmente la stessa tesi ma in maniera meno articolare sono tornato sopra e ci ho lavorato molto qual è secondo me il punto ecco questo è un punto però che io direi è antropologico e filologico nello stesso tempo faccio anche una premessa come faceva eva prima aprire una piccola parentesi per me l'antropologia del mondo antico romano greco che sia non si fa fuori dalla lingua semplicemente perché fuori dalla lingua non c'è altro questo mondo noi lo conosciamo attraverso la parola e attraverso la parola scritta nei testi e poi attraverso quelle documentazioni archeologiche che noi molto spesso interpretiamo perché disponiamo testimonianze scritte non solo quindi come dire la centralità dei testi c'è poco da fare insomma è fondamentale e quindi anche la filologia e quindi questi testi vanno secondo me vanno letti e studiati con la filologia se no l'antropologia la riflessione sui modelli culturali che stanno dietro questo mondo non si può fare nella fattispecie mi colpiva rifas appunto dal filologo che ci sono due definizioni una di sidoro di siviglia uno di servio che come diceva miglietta definiscono fasso come legge divina è sostanzialmente e invece ius come riguardanti gli uomini eccoci ce ne sono due di questi due che sono poi due glossatori grammatici e ce ne sono decine di altri lessicografi che dicono il contrario che invece i denti vivono con fasso illecito irrazionale il giusto ecco perché non prendere sul serio questi qua ma solo quegli altri ecco questa è una prima osservazione che secondo me è la filologia che te la fa fare cioè riguardi tutte le testimonianze e le devi guardare tutte non solo alcune l'altra che che però è più interessante ovviamente anche per chi ci ascolta secondo me è che questa base umana del fasso c'è il fatto che fa se non sia una legge divina ma sia la parola che si è sempre sentita quindi quella che fa fa legge in una cultura scritta si direbbe fa testo qui in una cultura orale si dice fa parola fa sesto fa se non viene solo è sempre con est fa sesto questo è parola che questo si faccia parola che questo nefas non si faccia ecco questo implica che alla base c'è una forza umana e che è un tratto secondo me culturale profondo della cultura romana la cultura romana non mette gli dèi il divino la rivelazione divina a fondamento delle sue istituzioni ma sono gli uomini che le fondano e che fondano persino quelle religiose questo era il punto che a me interessava anche da proprio per la riflessione sulla religione romana quando a roma si creano i culti si creano le norme religiose è un uomo che viene dalla sabina si chiama numa e lo fa lui questo e lo sapeva già gli us divino quando arriva a roma non c'è un dio ecco come diceva miglietta non c'è un dio che appare e detta lui le norme no c'è un uomo che viene e le dice lui non ma infatti le dice le fa imparare a memoria ai pontifici questo secondo me è un punto come dire molto rilevante perché dà una specificità di roma soprattutto poi rispetto a tutta la cultura cristiana che viene dopo che invece mette alla base non solo del divino ma anche dell'umano la parola di dio il libro scritto qui parola scritta e divino fanno sistema nel mondo romano parola orale e umano questo direi io sono le due caratteristiche che fondano che fondano la cultura e questo fa di roma un caso abbastanza eccezionale e e poi concludo su questo punto che mi è un po su tutto che mi interessa particolarmente sembra esserci una contraddizione cioè i romani continuano a ripetere che loro sono religiosissimi che non c'è popolo che onori gli dei meglio di loro c'è altri popoli sono superiori a noi per tante cose ma quando si tratta di religione siamo noi e contemporaneamente però hanno questa idea molto umana dei fondamenti della religione addirittura varrona dice quando quello che ci è rimasto dell'introduzione all'antiquità tes rarum divinarum e rarum humanarum dice io parlerò prima delle cose umane e poi delle cose divine perché sono le cività tes che fondano l'istituta e non il contrario prima è addirittura città cittadinanza il cittadino viene a roma non solo l'uomo il cittadino viene prima del divino e lui che dice come si onorano gli dei chi sono eccetera eccetera ecco sembra esserci una contraddizione siamo religiosissimi ma nello stesso tempo però mettiamo l'umano a fondamento del divino in realtà la contraddizione non c'è anzi è proprio proprio questa miscela specifica che ti fa capire come ragionano i romani sono talmente religiosi che loro sanno che gli dei sono dappertutto sono invasivi diciamo anche del loro spazio se uno pensa alla quantità di piccoli dei che romani hanno avuto di dei minuti di dei per tutto per tutto ciò che accade per il corpo della donna per la culla del bambino per le attività agricole c'è sempre un dio quindi gli dei sono dappertutto e proprio per questo l'importante è tenerli a bada cioè li onoro così tanto come dice plutarco anche ripetendo 17 volte la stessa cosa se la cerimonia non è venuta bene li onoro così tanto perché sono sempre io che ho il controllo su di loro perché in questo modo li onoro ma anche me ne difendo ecco questo mi sembra una cifra culturale uno stile culturale l'ho chiamato profondamente umano e che è tipico di roma io in questo vedo un sistema che è poi il sistema dell'importanza attribuito alla cittadinanza fino al punto di trasformare gli stessi dei in cittadini cicerone lo dice esplicitamente più volte che i dei sono concittadini degli uomini bene questi sono pochi punti che le vostre belle osservazioni mi hanno suscitato io vi ringrazio moltissimo sono arrossito più volte per i complimenti ma soprattutto mi compiaccio sono molto contento del fatto che dei giuristi abbiano potuto interessarsi al mio lavoro quindi grazie io chiederei relatori se vogliono dire ancora qualcosa eva bisogna che tu riaccenda il microfono perché devi si è spento è quel segno quel quello rosso a forma di microfono dove c'è scritto attiva audio se lo vedi chiederei quindi a luigi e a massimo mentre eva trova il se vogliono dire qualcosa e poi chiederei al nostro pubblico di prenotarsi perché abbiamo ancora qualche minuto se vuole fare qualche intervento con molto piacere lo ascoltiamo eva lo trovi dovrebbe essere in basso a sinistra io ti ho mandato varie richieste di riaccendere l'audio intanto luigi massimo vogliono fare qualche osservazione ma io ripeto aspettiamo eva no no vai tu prosegui e io vedo con eva un momento il l'audio se riesco io avevo annotato molti punti che meritavano di essere valorizzati mi aveva colpito ma non sono piccoli tasselli sono apporti fondamentali ad esempio l'assenza nel pur affollatissimo pantheon romano di una divinità della scrittura quando invece nel venetico e nel mondo greco la si trova noi troviamo per roma invece dove ogni momento di vita sotto tutti i quadratini ma manca la divinità della 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 scrittura e e invece abbiamo divinità della parola ma anche dei tacere in funzione di contrasto e questo maurizio lo dice all'inizio ed è già come dire insomma un'introduzione che affascina di per sé poi molte pagine dopo ci avverte anche di un'altra assenza straordinaria manca la dea della giustizia ma questo lo aveva detto anche aglaia maurizio riprende il concetto e lo esamina da par suo il mondo greco invece invaso da divinità che si richiamano direttamente la giustizia però luma quella quell'uomo dotissimo che si intendeva di diritto umano e divino e che l'uomo a cui prima alludeva maurizio anche se non lo ha chiamato per nome e cognome dico numa da rilievo invece alla fides e sulla fides beh insomma questo sì giuristi lo sanno si costruisce gran parte dell'edificio giuridico che che studiano i romanisti stessi e beh interessante anche questo non si eleva divinità ciò che è fondamentale basilare perché anch'io come maurizio ritengo che insomma nulla come è ossessiva la presenza del diritto in roma mentre apparentemente ossessiva ma infatti nessuno la coglie in questo senso la religione perché la religione è una religione sociale che alla fine io di questo sono convinto ma mi pare che anche maurizio lo dica e anche apertamente e diritto stesso insomma non siamo noi che duplichiamo una categoria che non era poi sentita come dicotomica al mondo romano dove la regolamentazione sociale insomma copre anche aspetti che noi riconnettiamo alla religione e in questo senso mi pare che maurizio sia quindi colgo anche uno spunto nel bel intervento di massimo miglietta e beh certo sono anch'io convinto ma anche maurizio per non si capisce in modo evidente dal dalla sua scrittura e gli dei nascono addirittura come cittadini dopo che i cittadini romani sono già sorti tu lo togli hai trovato fonti agostino che cita varrone certamente in contrapposizione ma è chiarissimo in questo senso come il pittore nasce prima del quadro dicono le fonti come l'artefice di un edificio nasce prima l'edificio così gli dei nascono dopo che i cittadini romani si sono costituiti come tali e diventano anch'essi cittadini e cittadini che abitano che affollano la città roma ma insomma è tutto un mondo che merita di essere rivisto alla luce di queste strade al nuove che ha aperto maurizio e sottolineare conclusivamente che ci induce anche a rivalutare aggregazioni che per noi non posso nemmeno dire che suonassero come tabù perché nessuno le aveva mai nemmeno avanzate prima accennavo al provocazio associata allo ius alla vocazio ius associata alla stipulazione un modo nuovo di presentare la materia se si vuole anche forse di insegnarla agli studenti noi li consideriamo addirittura istituti che appartengono due dei quali appartengono al diritto privato e quindi gli studi nel corso di istituzioni e uno che invece nulla c'entra beh forse potremmo anche rivedere noi stessi categorie attraverso le quali presentiamo la materia contribuisce quello che tu hai fatto maurizio a rompere schemi pandettistici ai quali siamo molto abituati e che è veramente difficile abbandonare ma che forse conviene verificare se non sia non solo produttivo lasciarli come ormai da più parti si dice ma anche valutare questo che pur non proviene da ricerche nostre insomma eppure anche tu hai aggregato dati e in fin dei conti che facciamo noi se non aggregare dati per presentarli in modo come dire afferrabile da parte degli studenti concludo forse dicendo che ci stiamo accorgendo adesso quanto sia un po' banale dire che l'antropologia in sé ha anche il diritto insomma no cioè l'uomo romano è per la quasi totalità uomo che parla il diritto che vive nel diritto che muore nel diritto che è ossessionato immerso nel diritto per cui permettetemi un tocco personale era anche per questo che io ero fortemente in contrasto con Agamben perché se c'è un ordinamento che le zone di anomia non le conosce le trovi con una fatica che solo una infezione di approccio filosofico può creare beh insomma questo è il mondo romano semmai va al posto e tu ce l'hai insegnato perfettamente e poi tu l'hai trovata anche lui con la disapplicazione del diritto e massimo vuoi dire grazie davvero massimo vuoi dire ancora una parola la professoressa cantarella e purtroppo si è disattivato l'audio non riusciamo attivarlo quindi vi saluta ed è molto felice dell'andamento del tutto massimo vuoi dire ancora una parola se non ci sono interventi e poi io vorrei solo ringraziare grazie a gloria nomo molto rapidamente che già parlato tantissimo prima e condivido condivido veramente in pieno anche questa osservazione sulla sulla religiosità dei romani e anche quello che diceva luigi sostanzialmente che una una delle facce del diritto anche quella insomma è veramente un giano con non due ma tre quattro facce questa questa realtà una una religione veramente sociale come come elemento di coesione poi certo il popolino minuto avrà avuto tutte le sue divinità da quella che proteggeva la culla appunto quella che proteggeva la donna proteggeva questo la nascita il parto la gestazione tutto quello che era della natura però diciamo appunto a livello adesso io non ricordo bene l'episodio ma mi pare ci sia tra le righe della letteratura qualcuno che dice no dei due sacerdoti che si incontrano e non si guardano negli occhi per non mettersi a ridere mi pare di ricordare un episodio del genere nella lettera mi sfuggono quindi proprio la sensazione di recitare una parte lo so che i parallelismi nella storia sono sempre pericolosissimi soprattutto quando sono passati dei secoli però io in qualche modo vedo qualche analogia per esempio con questa forte identità religiosa dello stato di israele per esempio dove si sa la stragrande maggioranza dei cittadini sono sostanzialmente agnostici ma sono fortemente connotati dalla dimensione religiosa come come elemento identitario come elemento di espressione della loro stirpe come elemento e quindi è ben possibile è a maggior ragione per i romani anche come diceva lo stesso Luigi che questo sia una gemmazione della loro natura essenzialmente giuridica voglio solo fare una piccola chiosa a questo grazie mille Maurizio una parola conclusiva e poi ringrazio se non ci sono interventi no sembra che no una parola conclusiva per ringraziare tutti e per dire appunto a Miglietta che il personaggio a cui si riferiva era Catone Catone il quale diceva non capisco come faccia un augure a non mettersi a ridere quando ne incontra un altro giusto 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 è vero è vero anche sempre con una cosa ironica e questo lo racconta Cicerone nell'eliminazione la storia di quello che era andato dal dall'augure insomma dall'interprete di segni dicendo ho trovato una serpe arrotolata al paletto della porta che cosa potrà mai significare e l'altra aveva risposto ma se tu avessi trovato il paletto della porta arrotolato al cerco e forse non significa per dire erano anche spiritosi e tutti bene allora vorrei ringraziarvi tutti moltissimo Eva Cantarella Luigi Garofalo Massimo Miglietta Maurizio Bettini e tutti i numerosissimi colleghi che sono presenti gli studenti del mio corso il club di cultura classica di Torino eh gli altri tanti colleghi che mi hanno che ci hanno seguito su YouTube e che hanno scritto gli studenti delle scuole i nostri studenti universitari i nostri colleghi del liceo spero di non aver dimenticato nessuno vedo ah il professore Leo Peppi ho visto vedo Anna Versano Giulio Rizzero il professore Simone insomma vi ringrazio tutti moltissimo eh per me è stato emozionante sentirvi e credo di avere altre vuol dire altri spunti di riflessione per molti altri incontri e quindi vi saluto tutti e vi ringrazio moltissimo ah anche Antonella il nostro assessore della cultura Antonella Tattaglia Polcini ho dimenticato di dire ecco una cosa fondamentale che questa Antonella lo vuoi dire tu? Dillo tu e di attivare lo schermo sì ecco buonasera a tutti grazie per questo significato incontro che ci ha dato la possibilità di volare avendo a centro la partita e questo incontro sarà ripreso nell'ambito della notte europea dei ricercatori che dovrebbe essere un punto che darà eh l'ambito della manifestazione che avrà a centro l'arco di Traiano nella nostra città dalla storia all'arco di Tattaglia non si può uscire da qua? a favore della promozione di società informate e di una divulgazione scientifica di alto profilo come è quella che è anche anche dalle mh pagine alle quattro grazie a tutti e arrivederci allora alla notte europea dei ricercatori a Benevento e grazie a lei grazie mille grazie a tutti grazie davvero grazie a Blaia del coinvolgimento grazie grazie agli studenti che sono stati bravissimi e buonissimi grazie Eva scusasi se non ci siamo riusciti a ricollegare con l'audio grazie Eva di cuore grazie a tutti grazie a tutti